Si chiamava Emma Lovell, era una bella donna di 41 anni di età, la quale è stata fatta fuori in un tentativo di rapina a Brisbane nella sua casa ubicata in Australia. La donna sarebbe stata da prima appena al petto da parte di una della banda di rapinatori. Era il 26 dicembre scorso quando una banda di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni è entrata in maniera abusiva nella vita della donna, stava proteggendo le figlie quando purtroppo è stata colpita a morte. I radroncoli volevano rubare a casa della donna il marito e sta intervistata ha fatto sapere tutto quello che effettivamente parlando è accaduto. Ovviamente non sa darsi pace, grida vendetta, vuole vendetta affinché i ragazzi che hanno compiuto questo viriatto vengano perseguiti e assicurati alla giustizia. Per fortuna sono stati arrestati, ma ci tratta di quattro ragazzi, ma ripeto, ma nessuno riedrà indietro all'uomo in questione, la bella Emma, che è passata idealmente parlando a mia vita. Grazie a tutti gli enti di Youtube, Emma Lovell, che tu possa riposare in pace. Amen.